Tri-tri zio! Non è come generazione la generazione ancora più figli e cugini però. Tu tra i cugini ero l'altro figlio. Hai ragione sei come Matteo. Che te facevi così? La Franca. Se tu non mi hai conosciuta, mi accompagna a dire elementare. Poi c'era anche uno dei mezzeggi che tu imitavi bene, l'Ida Bonni, la signora, l'Ida, l'Ida, la ragazza di mia figlia era da puttane, è vero, la ragazza di mia figlia era proprio da puttane, però, quella viene senso, viene senso, Sì, Glasgow, vieni qua, 5 minuti, si, si, vieni qua, ti sei visto, ti sei visto, ti sei visto, eccomi, appena forzato, Allergico all'ecca, all'ecca All'ecca Ma è vero? Come si fa abitare l'ecca Proprio Era una persona molto Stai prendendo Ma cosa fai? Fai i filmini E' un po' E' un po' E' un po'